Benvenuti in questo nuovo video dove mi avete chiesto di disegnarvi una rana un po' stilizzata. Mi diverto molto a fare queste pillole, questi disegni veloci. Allora, disegneremo la nostra rana stilizzata. Innanzitutto dobbiamo disegnare un ovale, ecco qua. Disegneremo due cerchi che sarebbero gli occhi. Quindi la rana ha degli occhi grandi, quindi è la prima caratteristica che dobbiamo andare ad aggiungere. Ok, la rana si trova sempre, diciamo, in quella posizione un po' seduta, stile zen. Quindi altri due ovali, una a sinistra e una a destra. Le zampette della rana, uno, due, tre. Uno, due, tre. Ora aggiungiamo le zampette anteriori, perché quelle erano quelle posteriori. Ecco qui. Uno, due, tre. Gli occhioni della nostra rana. Ok, passiamoci al nostro pennarello. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Ecco qua. Allora, quindi, ricalchiamo. Ho fatto già il primo errore. Facciamo il braccino. A proposito, quando vi iscrivete al canale, cliccate sulla campanellina. In questo modo, sarete avvertiti dei nuovi video. E se avete qualche richiesta di qualche disegno in particolare, fatela pure. E io vi accontenterò il prima possibile. 有vi det. A proposito, a proposito dove ovmo le rendere qui è in unaุ伴ionale. A proposito di rifare le nostreforzioni uccidere. A proposito, a proposito, lo vivere. Orozco! Grazie a tutti. Ok, le rane sono sempre sedute su quelle foglie che galleggiano sull'acqua ed ecco qua, quindi abbiamo disegnato anche la nostra foglia. E siamo arrivati alle fine del nostro video. Se vi va potete visitare il nostro sito, il nostro blog, sotto al video trovate il link e vi ripeto mi raccomando iscrivetevi al canale. Se vi va potete seguirmi anche su Instagram su baldo.info. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.